Buongiorno a tutti, allora magliettina come sempre disportando dintorni, non vi sto a fare la rava e la fava del racconto, ve la metto solo per vedere e partiamo perché dobbiamo andare a vedere in vista della partita di questa sera che siamo tutti belli fomentati, belli convinti, alcuni sono convinti di una cosa, altri di un'altra. Alcuni sono troppo ottimisti, altri sono troppo pessimisti, altri non dicono niente per scaramanzia, ognuno ha i suoi riti scaramantici eccetera, pre-partita, ognuno cerca di guardare delle stelle nella luna, delle coincidenze che ci sono, della speranza. Punto. Io non dico nulla, ho già detto quello che spero in un video, non andate a vedere, da adesso in poi se mi chiedono un pronostico non dico niente. Comunque, le statistiche e i precedenti di Italia e Inghilterra, incontro in programma a Wembley e valido per la finale di Euro 2020. Domenica 11 luglio alle ore 21, cioè stasera, si giocherà Italia e Inghilterra, incontro valido per la finale di Euro 2020, che diciamo 2021 ormai è. La nazionale di Roberto Mancini ha staccato il pass per la finale eliminando la Spagna ai calci di rigore. Mentre la nazionale di Southgate si è qualificata per la finale battendo la Dan Di Marca ai tempi supplementari. Quindi entrambe le squadre hanno dovuto giocare 120 minuti. Sì, vabbè, l'Italia ha dovuto tirare anche i calci di rigore, ma ormai li tirarono rigore, non è che li stanchi in maniera esponenziale. Quindi partono alla pari con una piccola differenza. L'Italia ha giocato martedì, l'Inghilterra mercoledì. Quindi l'Italia ha avuto un giorno in più per riposarsi, nel senso che l'Inghilterra doveva giocare, i nostri erano già belli spaparanzati a fare il defatigante. Comunque sono 27 i precedenti tra le due squadre, con il bilancio favorevole all'Italia, che ha raccolto 10 successi contro le 8 vittorie dell'Inghilterra, 9 i pareggi. Sono 31 le reti messe a segno dall'Italia, mentre sono 33 i gol segnati dall'Inghilterra. Quindi nonostante noi abbiamo vinto di più, si vede che l'Inghilterra, quando ci batteva, ci dava le mazzate sulle orecchie. Considerando i match ufficiali, quindi non le amichevoli, sono solo 8, quindi su 27 partite, 8 su 27 sono incontri ufficiali, le altre 19 partite sono tutte amichevoli. Con il bilancio sempre favorevole agli azzurri, che hanno raccolto 5 vittorie contro non solo il successo dell'Inghilterra e due pareggi. Sono due i precedenti agli europei, con un successo dell'Italia e un pareggio. L'Italia ha giocato 8 partite a Wembley, di cui 2 in questo europeo, che quindi non contano perché sono partite non contro l'Inghilterra. Raccogliendo 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Il bilancio dell'Inghilterra in quel di Wembley è di 187 vittorie, 73 pareggi e 39 sconfitte. Però, come vedete, calcolando che ci sono 4 vittorie, 2 le devi togliere, perché sono due vittorie a Wembley. Abbiamo due vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta contro l'Inghilterra a Wembley. Poi magari abbiamo giocato in altri stadi e purtroppo le vedrete, ne abbiamo prese. Però erano amichevoli, erano amichevoli. E adesso, mi stop un attimo, ma andiamo a vedere tutte le 27 partite, come si sono sviluppate, eccetera, eccetera, eccetera. e quando riguardavano o le qualificazioni ai mondiali o le partite di qualche campionato europeo o mondiale, eccetera, eccetera, in cui abbiamo affrontato l'Inghilterra, andremo a vedere cosa ha combinato l'Italia. Quindi adesso mi stop un attimo, poi ci ho lì tutto il resoconto. Allora, come direbbe tanti anni fa il buon Enrico Berluschi, Allora, la prima partita amichevole tra Italia e l'Inghilterra è datata 13 maggio 1933 e terminò 1 a 1. L'anno successivo, più o meno, il 14-11-34, l'Inghilterra batte l'Italia 3 a 2 in Inghilterra, però. Sempre a partita amichevole. Cinque anni dopo, più o meno, il 13 maggio 1939, altra amichevole tra Italia e Inghilterra, terminata 2 a 2. Quindi 13 maggio 1939, quattro mesi prima, più o meno, dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Bisogna andare addirittura avanti di ben nove anni per vedere un'altra sfida amichevole tra Italia e Inghilterra e lì l'Inghilterra ci diede una mazzuata perché si giocava in Italia e l'Inghilterra vinse addirittura 4 a 0. Ci vendicamo noi l'anno successivo, il 30 novembre 1949, ahimè, appena quattro mesi dopo la tragedia di Superga, che era datata maggio 1949, e l'Inghilterra ci batte 2 a 0 in Inghilterra. Quindi, come potete vedere, inizialmente dal 33 al 49, l'Italia non è mai riuscita a battere l'Inghilterra con due pareggi e tre sconfitte. Però erano tutte partite amichevoli. Com'è amichevole la partita del 18 maggio 1952 in casa dell'Italia, terminata 1 a 1. Nuovo pareggio, sette anni dopo, il 6 maggio 59, stavolta in Inghilterra, Inghilterra-Italia 2 a 2. sconfitta nuovamente nel 24 maggio 1961 dell'Italia contro l'Inghilterra, 3 a 2 in casa. Finalmente, dopo ben 40 anni, il 14 giugno 73, l'Italia, in amichevole, riesce a battere finalmente l'Inghilterra per 2 a 0. e fa il bis, 5 mesi dopo, il 14-11-73, pensate, 5 mesi dopo, nuova amichevole, stavolta in Inghilterra, e l'Italia vinse 1 a 0, se non erro, gol di capello. E fu la prima partita vinta dall'Italia in Inghilterra. Nuova amichevole, il 28 maggio 1976, e siamo alle solite. L'Inghilterra, in Inghilterra, batte 3 a 2 l'Italia, ma era, appunto, un amichevole. Quindi, per ora, le due nazionali si sono sempre affrontate in partite amichevoli. Finalmente, entriamo nel vivo, perché il 17 novembre 1976, per le qualificazioni ai mondiali del 1978, nel girone, l'Italia affronta l'Inghilterra in casa e la batte 2 a 0. Un anno dopo, esattamente un anno dopo, nella gara di ritorno, sempre valida per le qualificazioni ai mondiali, l'Inghilterra batte l'Italia 2 a 0 e, ahimè, vinse il girone. Quindi andiamo a vedere le qualificazioni ai mondiali del 1978. Finiamo il girone a pari punti con gli inglesi, ma abbiamo una migliore differenza reti, quindi mi sono sbagliato, quindi abbiamo migliore differenza reti, più 14 contro più 11 e quindi ci qualifichiamo noi e gli inglesi vengono eliminati, perché lo spareggio lo farà l'Ungheria con la squadra della Commonwealth. Pensate, finiamo a pari punti con l'Inghilterra. Siccome gli scontri diretti sono finiti pari, Italia-Inghilterra 2 a 0, Italia-Italia 2 a 0, vale la differenza reti e nel 1978 ai mondiali ci andammo noi, facciamo anche una gran bella figura. Io credo che quel mondiale del 1978 mi è ancora rimasto qua, perché ricordiamoci, noi il girone battemmo i futuri campioni del mondo dell'Argentina 1 a 0, gol di Bettega. Poi, ahimè, il buon Didone Zoff si dimenticò le lenti a contatto, prese due spatafloni da casa sua dai due giocatori inglesi, non andesi, scusate, e l'Italia fu costretta a fare la finale per il terzo-quarto posto contro il Brasile e anche lì mi sa che Zoff non trovò più le lenti a contatto e prese altri due gol in maniera abbastanza sfortunata. Proseguiamo con le partite e si va al 15 giugno 1980 siamo ai campionati europei in Italia. Campionato europeo in Italia, siamo nel girone con Belgio, Inghilterra e Spagna. Ahimè, noi battemmo l'Inghilterra 1 a 0, ma le altre partite non andarono benissimo, perché vi elenco le partite, ma comunque c'è anche il video sugli europei del 1980 che ho fatto con Riepiro, però mi sembra giusto riepilogare velocemente. Eravamo nel girone B se non ricordo male, ma tanto cambia poco perché i gironi sono due, con appunto Belgio, Inghilterra e Spagna. Il primo turno il Belgio pareggiò 1 a 1 con l'Inghilterra, l'Italia pareggiò 0 a 0 con la Spagna. Nel secondo turno il Belgio batte la Spagna 2 a 1, attenzione, batte la Spagna 2 a 1, l'Italia batte l'Inghilterra 1 a 0. Quindi a quel punto avevamo Italia e Belgio con due punti e Inghilterra e Spagna con un punto. Poi ci fu Spagna e Inghilterra vinse l'Inghilterra 2 a 1, Italia e Belgio terminò 0 a 0. Siccome il Belgio aveva una differenza a reti migliore della nostra perché l'Italia aveva fatto un gol e non ne aveva subiti il Belgio aveva segnato 3 gol e ne aveva subiti 2 il Belgio con 3 gol fatti e 2 subiti contro un gol fatto e 0 subiti dell'Italia avendo lo scontro diretto cioè lo scontro diretto a differenza a reti favorevole passò il turno come prima del girone l'Italia fu seconda siccome allora non c'era poi la semifinale in crocio la prima di un girone contro la seconda dell'altra e viceversa ma chi vince la girone andava a giocare la finale chi era seconda faceva la finale terzo quarto posto noi fu molto costretti a fare la finale contro terzo quarto posto contro la cecoslovachia 1 a 1 dopo i tempi supplementari e poi per Nemmo ai calci di rigore proseguiamo con le partite tra Italia e Inghilterra ci sono un po' di amichevoli due una del 6 giugno 1985 Italia e Inghilterra 2 a 1 l'altra del 15 novembre 89 Inghilterra e Italia 0 a 0 poi c'è una partita importante si fa per dire la finale per il terzo e quarto posto ai mondiali del 1990 che vide la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra per 2 a 1 ma fu una festa perché alla fine tutte le due le squadre si misero al centro del campo facevano la ola eccetera eccetera non gliene fregavano a Beata Giovanna nessuna delle due perché gli giravano i testi di non essere in finale l'Italia eliminata dall'Argentina l'Inghilterra eliminata come le capitava spesso dalla Germania veniamo alle qualificazioni mondiali del 97 per il mondiale del 98 Inghilterra e Italia 0 a 1 12 febbraio 97 poi tra una e l'altra c'è stata anche un amichevole il 4 giugno del 97 con l'Inghilterra che batte l'Italia 2 a 0 e poi nella gara di ritorno giocata a Milano sempre per le qualificazioni mondiali del 1998 l'Italia parigiò 0 a 0 con l'Inghilterra e ahimè l'Inghilterra vinse stavolta il girone per un punto 19 a 18 e l'Italia fu costretta a fare lo spareggio con la Russia stavolta però lo spareggio andò bene perché pareggiammo in Russia 1 a 1 e vincemmo in casa 1 a 0 e quindi ci qualificavamo per il mondiale 98 che come ben ricorderete l'Italia venne eliminata dalla Francia nei quarti di finale ai calci di rigore da allora è successo al COES perché non è mica finita dopo il 97 appunto che ci fu questo pareggio tra Italia e Inghilterra per le qualificazioni mondiali che qualificò direttamente l'Inghilterra e noi facemmo lo spareggio ci furono altre due amichevoli una al 15 novembre del 2000 Italia e Inghilterra 1 a 0 e una al 27 marzo 2002 con l'Italia che andò a fare la Corsara in casa dell'Inghilterra vincendo 2 a 1 dal 2002 passiamo addirittura a 10 anni dopo al 24 giugno 2012 ai campionati europei Inghilterra-Italia valida per i quarti di finale appunto del campionato europeo che come ben saprete finì come finì comunque l'Italia dopo lo 0 a 0 dopo i tempi supplementari vinse ai calci di rigore 4 a 2 affrontò la Germania in semifinale la batte 2 a 1 e poi ahimè la Spagna ci presa a pallate perdemmo 4 a 0 Infine le ultime partite il 15 agosto 2012 un amichevole Italia e Inghilterra e stavolta l'Inghilterra a fare la Corsara vincendo in Italia 2 a 1 ci vendichiamo tra virgolette noi il 14 giugno 2014 ai mondiali vincendo 2 a 1 ma ahimè quei mondiali lì passarono alla storia per la figura da cioccolatai che abbiamo fatto sia noi che loro perché in quel girone che era costituito da Italia Inghilterra Costa Rica Uruguay passò prima la Costa Rica seconda l'Uruguay terza l'Italia che andrò a casa e addirittura quarta l'Inghilterra con un solo punto quindi figura di M concludiamo con le due ultime amichevole tra Italia e Inghilterra che sono due pareggi per 1 a 1 uno in Italia il 31 marzo del 2015 e l'altro sempre amichevole stavolta il 27 marzo 2018 in Inghilterra con il risultato di 1 a 1 tra l'altro il 27 marzo 2018 quindi sotto sventura detto questo ragazzoli siamo tutti belli carichi tutti fomentati per questa sera come potete vedere a parte le amichevoli anteguerra eccetera in cui l'Inghilterra era l'Inghilterra poi più o meno siamo noi in vantaggio e nelle competizioni europee quando ci siamo affrontati non abbiamo mai perso speriamo di andare avanti così di mantenere toccatina di balle che conviene sempre questa media sperando di non andare ai calci di rigore non dico niente detto questo vi saluto vi ringrazio Forza Italia Forza Azzurri che qualcuno guardi giù sull'arbitraggio ciao